Sia lodato Gesù Cristo! Sempre sia lodato! Allora questa trasmissione andrà in onda col bollino rosso. Le leggi di Don Minutella questa sera sono vietate ai minori cattoprogressisti, bergogliani, cattolici adulti, neomodernisti, vescovi in bici, preti, cuochi e camerieri nelle cattedrali, abitanti di Patmos, storici pallosi e così via, tranne che non siano accompagnati dalla mamma. Ciao! Ecco, bentornati a tutti voi carissimi amici. Questa sera il tema che voglio trattare è un po' conseguente a quello di ieri sera, che ho un po' interrotto, diciamo così, perché il tempo è sempre molto breve quando si parla delle cose belle di Dio e si riflette sulle verità eterne della fede. Il tema di questa sera è collegato a quello di ieri sera e riguarda l'esistenza dell'anima immortale. Dell'anima, vorrei fare una breve sintesi rispetto a ieri sera, così ci colleghiamo, dell'anima ormai non si parla più. La Chiesa Cattolica sembra essere divenuta qualcosa come una organizzazione alla maniera delle Nazioni Unite, i poveri, gli ultimi, gli ammarginati, a parte il fatto che se io vado ad aiutare un povero non mi porto come fa il mio vescovo i fotografi appresso per renderlo noto, perché si perde stando alle parole di Nostro Signore, anche se non c'è mai registratore, quindi non si sa mai bene se non hanno ragione loro, però mi pare che il Nostro Signore ha detto non sappia la tua destra quello che fa la sua sinistra. Allora, siccome questa sera io su questo voglio dirvi chiaro, anche io aiuto i poveri come Dio vuole, ma li nascosto e non mi porterò mai i fotografi perché la ricompensa viene dal Signore. questi recitano, hai capito? Per ingannare le masse recitano. Ecco. Allora, volevo dire questo, la Chiesa non parla più dell'esistenza dell'anima immortale, era il tema di ieri sera, no? Scusate, lo dico agli amici di Radio Domino ogni tanto il volto perché qui siamo un bel numero di pecore, infatti faccio odor di pecore nonostante abbiano tentato di impedirmelo, il greggio si è addirittura ingigantito, dunque dicevo la Chiesa non parla più dell'esistenza dell'anima e infatti si è ridotta a qualcosa come un impegno a favore dei poveri. Questo è uno dei peggiori, amici cari vorrei che fosse chiaro a tutti voi, uno dei peggiori travisamenti della fede cristiana, uno dei più insidiosi, se non addirittura il più insidioso. Neanche il comunismo è arrivato a questo, usare il Vangelo trasformandolo in una utopia inframondana, direbbe Fonbaltasar, cioè aiutiamo i poveri nel riscatto sociale dei poveri. Ma Gesù Cristo non è venuto affatto per questo, non è salito sulla croce per salvare i poveri, tant'è che era amico anche dei ricchi Gesù Cristo, non era mazzista Gesù, non era comunista il Signore, non era neanche paoperista, amava i poveri, stava con i poveri ma il Vangelo è molto chiaro, stava anche molto bene con i ricchi, non faceva discriminazione, per Gesù era importante la salvezza delle anime. Quella frase di San Giovanni Bosco, che è stato il santo della mia ultima parrocchia e qui stasera vorrei salutare tutti quelli che sono presenti della parrocchia, San Giovanni Bosco diceva al Signore da amici animas et eccetera tolle, cioè Signore dammi le anime e poi toglimi tutto il resto perché alla fine un prete verrà chiesto non come aiutati i poveri, perché questi poveri che vanno a mangiare nei ristoranti delle chiese, nelle cattedrali d'Italia col benestare se non addirittura con la promozione di orgoglio, ma a questi poveri gli si parla del regno di Dio? Gli si parla dell'esistenza dell'anima? Gli si invita a confessarsi? Gli si invita a incontrare Gesù Cristo? O gli si offre solo le lasagne al forno, i macchieroni, non so che cosa, il vitello tonnato e poi dopo li mandi dove? A casa? Senza avere parlato di Gesù Cristo? Mi dispiace, questa è una contraffazione diabolica del cristianesimo e mi dispiace, veramente mi dispiace, ma non per me, perché tanto io so che è la Madonna che mi guida ed è lei che me lo chiede ed è lei che mi sta accompagnando in questa missione e so già come andrà, lo dico agli avversari che so già come andrà nel mio caso, perché la Madonna mi ha già detto tutto, mi dispiace che da quest'altra parte si parli di tutti e da due anni che sbraito, hai capito? E certe testate di un certo peso continuano clamorosamente a ignorarmi, se ne pentiranno, non lo dico per me stesso, lo dico per il messaggio che oggi va annunciato così forte, perché come dall'altra parte c'è qualcuno al governo che è insolente nell'eresia, da quest'altra parte che lo sappiano c'è qualcuno che è insolente nella difesa della sana dottrina cattolica, ecco questo per dire. Allora mi sono infuocato abbastanza, abbiamo accesso i fuochi, adesso andiamo nel merito della questione. Io questa sera vorrei parlare poco, ecco, perché ho preparato un indice, perché è quando noi carissimi amici parliamo dell'esistenza dell'anima, affermiamo un principio metafisico, un principio diciamo così trascendentale, cioè Dio crea lui l'anima, è Dio che crea l'anima, ecco, Dio crea l'anima carissimi amici, è creazione di Dio l'anima, se vi ricordate ieri sera dicevo che l'anima è creata come una scintilla che si riparte da un fuoco, ecco, è Dio, l'anima partecipa della natura divina, diciamo così, no? Ecco, è l'anima immortale, è appunto immortale. Ieri sera ho dimenticato di raccontare un episodio che mi è successo personalmente, credo averlo raccontato altre volte, mi ricordo che fui chiamato una volta a dare l'estrema unzione a un giovane che si era suicidato ma non era morto subito, si era tagliato le vene. Quando sono andato a trovarlo per confessarlo ricordo molto bene che io gli chiesi ma tu perché hai fatto questo? Perché ti sei suicida? Perché stai morendo? Perché hai deciso di morire? La sua risposta è stata padre io soffro troppo, vi ricordate adesso di recente quella lì come si chiama, aiutatemi un po', Marina Ripa di Meana, no? Perché si vive senza Dio tante volte e si parla dei poveri, ma i veri poveri chi sono? Quelli che invitiamo in cattedrale a mangiare o quelli che muoiono disperati senza Cristo, senza la fede? E guardate che chi non dà a mangiare Gesù Cristo dovrà rendere conto a Dio, non c'è veste bianca, nera o rossa che tenga, capito? Cioè la gente oggi muore disperata, ci sono povertà che non sono affatto contenute, in questo magistero attuale che dura da quattro anni e mezzo non esiste una teologia del peccato e conseguentemente non esiste una teologia precisa della grazia, perché della grazia puoi parlare, della grazia salvifica puoi parlare quando esiste il tema teologico del peccato, il peccato originale per cui tutti siamo segnati dal male e il battesimo ci salva, il peccato mortale che dopo aver ottenuto la grazia salvifica rompe l'amicizia con Dio per scelta nostra e poi rischiamo di andarcene anche in inferno, ma chi parla più dell'inferno? Chi parla più dell'inferno? Don Minutella, programma vietato ai minori cattoprogressisti. Allora io questa sera vorrei parlare la possibilità che noi, quest'anime, perché io ho detto a quel giovane lì, a quel giovane lì che si toglieva la vita, ho detto guarda hai commesso un grosso errore, eh sì lo so padre che tu vuoi dirmi che è peccato, attenti eh, che è peccato mortale togliersi la vita, no 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 no, sei un idiota, mi dispiace che te lo debba dire mentre muori, questa cosa l'ha fatto riflettere, poi non è morto però eh, appunto perché era idiota, non è riuscito neanche a saper morire, ma io ho detto sei un idiota perché anche se muori lasci il corpo, ma quello che sei, cioè la tua anima è immortale, cioè tu ti presenti dinanzi a Dio e dinanzi a Dio rendi conto della tua vita, soprattutto se te ne vai in questo modo così, perché la vita è dono di Dio e anche la sofferenza, lo dico perché oggi accanto alle frontiere che hanno aperte nella falsa chiesa c'è questa frontiera tremenda e perniciosa della dell'accompagnamento, una morte, l'eutanasia, no, le cure palliative, quelle storie lì, guardate che la sofferenza, amici cari, per noi credenti, poiché c'è la croce di Cristo, non è una maledizione, lo dico a ragione veduta perché ho accompagnato all'incontro con Dio anime e persone che hanno sofferto moltissimo e accettavano tutto la maledizione di Dio come i santi, qui abbiamo la Madonna di Lourdes che a Bernardetta ha detto non ti prometto la felicità in questo mondo, purtroppo succede che oggi il cristianesimo a causa di questi metrapenser falsi è diventato un agnosi, il cristianesimo non esiste per vivere bene nel mondo e per vincere le povertà del mondo, questo ha provato a farlo Marx e non ce n'è neanche riuscito, il cristianesimo esiste per dire come andare in paradiso, capito? Io sono molto devoto del santo, la Madonna ha ben detto, non ti prometto la felicità in questo mondo, ma cosa volete? La Madonna non ha studiato teologia nei testi di Enzo Bianchi, tutti mi secca a ripetere i loro nomi, basta, non li voglio più ripetere, ecco, ma il santo curato d'Ars, quando è arrivato ad Ars e non trovava la parrocchia, c'è il monumento dell'incontro, ha chiesto al giovane Antoine Favre, mi puoi indicare giovanotto la strada per arrivare in parrocchia? Il giovane gli indica la strada per arrivare in parrocchia, il pellegrinaggio che sto per organizzare a luglio, vietato ai minori, catto progressisti, andremo anche ad Ars, il santo curato d'Ars ha detto a quel giovane, bene, tu mi hai indicato la via per Ars, io ti indicherò la via del cielo, o la Chiesa Cattolica torna, lo dico da profeta che gronda sangue, o la Chiesa Cattolica torna immediatamente, urgentemente a questo annuncio che indica la via per il cielo, attraverso la croce, che indica il rifiuto dei richiami del mondo, la conversione, la penitenza, o la Chiesa affonda, la Chiesa affonda attraverso le spore delle proprie false, false teologie, se mi accendo, ma a parte che qui dentro fa un po' di freddo, ma serve anche un po'. Allora, l'anima è immortale, amici cari, e non è vero quello che dice Bergoglio, non lo dice chiaramente, ma lo lascia intendere perché crede di essere furbo, ma va scoperto il fatto che anche da quest'altra parte c'è qualcuno che ha deciso di fare altrettanto furbo, certo lui parte avvantaggiato perché è il Papa e infatti mi vengono tutti addosso, perché io sono disobbediente, perché io non sono come padre Pio e devo stare zitto, eccetera, quindi lui è avvantaggiato, ma guardate che sono altrettanto furbo, ho capito che lui lascia veicolare le cose senza dirle chiaramente, tant'è che su Amoris e Letizia, nonostante i cardinali abbiano posto dignitosamente, elegantemente, non mica sono insolenti come sottoscritto, hanno posto delle domande chiare, non hanno avuto risposta, e così veicola un messaggio che poi inficia le anime, capito? Non è vera l'ipotesi che le anime quando muoiono, se sono in peccato mortale, si disintegrano e alla fine c'è una sorta di apocatastasi finale, perché questo circola un po' con questa esistenza sulla misericordia, volemose bene, attenzione, il giudizio di Dio è tremendo, vi ricordo il Cristo di Michelangelo nella Cappella Sistina, con quel dito puntato persino la Madonna un po' si copre, cheppure è l'Immacolata, dovremmo fare i conti con Gesù Cristo, c'è niente da fare, ognuno di noi, non c'è niente da fare, per cui l'appello come iniziano i Vangeli, scusate? Non c'erano i registratori, mi scuso col generale dei Gesuiti, che evidentemente è uno che ha studiato cose tecniche, non c'erano i registratori ai tempi di Gesù, ma mi pare che il Vangelo di Marco inizi, no? Anche in Matteo poi, quando Gesù, comunque Gesù come inizia la sua predicazione ai Vangeli? Il Regno dei Cieli è vicino, il tempo è compiuto, ditelo voi, ma voi non siete minori cattoprogressisti però, aggiornatevi, aggiornatevi, c'è la misericordia che va per tutti, capito? E non è così, il primo appello di Gesù nei Vangeli è metanoeite, in greco, metanoeite, metanoeo significa cambiate mente, cambiate modo di vedere le cose, e mi pare che è stato Gesù, ma non c'era il registratore, che ha detto il Regno dei Cieli è per i violenti, sforzatevi di entrare per la porta stretta, mi pare che l'abbia detto, se non ricordo male, nostro Signore questo. Quindi figlioli cari, c'è il rischio che noi, in questa vita, ci perdiamo l'anima, col peccato. E allora questa sera io, pensate un po' a questa sola introduzione, ho deciso di parlarvi dell'inferno, ma ci riuscirò mai a leggere tutto quello che ho preparato, spero di sì, se sto zitto io e do parola a questi testimoni. E avevo detto oggi nell'annuncio della Catechesi, che avrei iniziato con i riferimenti nel Vangelo e poi nel Catechismo della Chiesa Cattolica, vero? Lo farò fra due giorni, quando inizio il tour mariano in giro per l'Italia, nella prima tappa. E mica dico adesso dove sarò, lo dico dove mi troverò, nel momento opportuno. Eh, amici cari, finché si può, si fa come il nostro Signore. Poi quando giunge l'ora, giunge l'ora, ma ancora non è l'ora. Allora, della questione dell'inferno, vorrei ricordare che Sant'Ignazio di Loyola, che è fondatore della Compagnia di Gesù, negli esercizi spirituali, dedica la terza parte alla meditazione sull'inferno per me. Cioè, ognuno, dice lui, deve pensarsi in inferno. Capito? Sentire l'odore dello zolfo, le urla dei dannati, il buio pestifero e soprattutto la percezione, amici cari, della eternità, perché l'inferno esiste. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, ai numeri 1033 seguenti, ne conferma l'esistenza e non è vuoto. Posso aprire una parentesi? Che la smettano certuni di dire che Fonbaltasar ha detto che l'inferno è vuoto e perciò è un teologo modernista, progressista. Io ho fatto la mia tesi di laurea alla Gregoriana col massimo dei voti, non ha mai detto Fonbaltasar che l'inferno è vuoto. Questo perché siete amici miei, è giusto che ve lo dica. Chiusa parentesi. Allora, io questa sera, anziché parlare del Magistero e di ciò che c'è nel Vangelo, lo farò a Dio piacendo sabato sera, oppure può darsi che cambierò anche tema. Comunque, stasera voglio leggervi dei viaggi turistici. Un paio di persone hanno fatto un viaggio, un tour. Io farò il tour mariano. Un paio di santi hanno fatto un tour, una esperienza in inferno. Ce ne sono diversi, ma io mi sono, diciamo, premunito di presentarvene un paio. Comincio con Santa Faustina Kowalska e non a caso inizio con lei perché è l'apostola della Divina Misericordia, per far capire che proprio a colei che Gesù ha scelto per diffondere nel mondo il messaggio della Misericordia è stato presentato l'inferno, per dire che la Misericordia non è a cuor leggero. L'altra poi è Santa Teresa d'Avila. Ancora vi parlerò di Fatima, di Katia Giammona e infine una sorpresa, come ho annunciato oggi. E siccome la sorpresa ci tengo a leggervela, comincio subito. Allora, viaggio nell'inferno di Santa, di Suor Faustina Kowalska, dal suo diario apprendiamo quanto segue. Era il 20 ottobre 1936, terzo quaderno. Scrive Santa Faustina, preparatevi ai parroci, ai teologi, agli studiosi che dicono che è un linguaggio simbolico, capito? Io dico tante volte al Padre Eterno, ma porta loro a fare una visita all'inferno, Santa Faustina. Questi che negano l'inferno, ma perché non li porti a vederlo? Così si convertono. Chissà il buon Dio, tante volte, porta Santa Faustina che tutto sommato ci credeva. Io direi, ma portaci quelli che non ci credono all'inferno. Però un vito mancuso che uno un sabato notte va in inferno. Ma per carità, poi torna, non è che gli sto augurando nulla di male. Però poi magari scrive un libro e dice, io l'ho visto l'inferno, hai capito? Va bene, leggiamo Santa Faustina. Oggi sotto la guida di un angelo sono stata in inferno. È un luogo di grandi tormenti per tutta la sua estensione spaventosamente grande. Il Catechismo della Chiesa Cattolica a riguardo di questo dice una cosa molto importante. Dice così al numero 1037, Dio non predestina nessuno ad andare all'inferno. Cioè Dio è vero che vuole tutti salvi. Il misericordismo parte con un principio positivo, un principio buono, cioè l'annuncio della misericordia di Dio è stesso a tutti, che però è accompagnato appunto per questo dalla, fra un po' arriviamo alla quaresima, convertitevi, rinunciate al male, rinunciate al peccato. E quindi Dio non vuole che andiamo in inferno. Ecco, siamo noi che scegliamo. Vi ricordate nel diario di un fatto di campagna di George Bernanos, se no però poi non mi spiego più. Questa è una cosa tira l'altra, è solo come le ciliegie. Questa è la conseguenza, l'inferno, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica al linguaggio magisteriale, questo, l'inferno, è la conseguenza di una avversione volontaria a Dio. Tra parentesi c'è scritto un peccato mortale. Attenzione, significa che chi muore in peccato mortale, nonostante tutti i pranzi che si è andato a fare in cattedrale, anche se è povero, se muore in peccato mortale, va in inferno. Lui, chi gli ha offerto il pranzo e chi offrendogli il pranzo non gli ha spiegato che doveva convertirsi perché c'è un pranzo superiore di fronte al cui alcuni a quello hanno rinunciato per amore del pasto celeste. Non so se mi capite. Vedete? Vedete in quale impostura, diciamo antipatica, ci troviamo. E la gente non se ne accorge. Non so se ancora oggi arriveranno messaggi, stati zitto, togliti di mezzo, ce l'hai col Papa, devi essere come Padre Pio. Capite? Capite come funziona? Chi muore in peccato mortale va in inferno. E l'inferno, amici cari, questo andrebbe capito bene. Vi ricordate Dante Alighieri? Qualcuno sta lì a chiedersi se veramente lui è andato a vedere l'inferno o meno. Noi non lo sappiamo bene, però è una descrizione. Io ho fatto il liceo classico, mi ricordo che ero pestifero, andavo malissimo in matematica, nelle scienze biologiche, ma quando il professore, la professoressa mi interrogava sulla Divina Commedia, già allora mi diceva Minutella, staremmo ore a ascoltarti io con i con i tuoi compagni di classe, sembra che fai delle prediche, perché mi piaceva la Divina Commedia, no? Lasciate ogni speranza, o voi, che i vi entri. Quando Caron demonio, no? Il demonio Caronte, si vede anche nel giudizio universale, accompagna, traghetta le anime dei dannati in inferno. Figlioli cari, non è mitologia greca questa, non è apparentamento ellenistico, scusate queste terminologie un po' difficili, ma siccome io so chi è che mi segue e ci capiamo con loro, non è apparentamento ellenistico, non è, diciamo così, camuffamento culturale. L'inferno è un dogma di fede, della dottrina cattolica esiste e il Catedriso della Chiesa Cattolica ne ha confermato l'esistenza. Cioè l'inferno è eterno. Allora Santa Faustina entra lì e dice di avere visto i dannati, caratterizzati da sette pene. Queste le varie pene che ho viste. La prima pena, quella che cosisce l'inferno, è la perdita di Dio. Cioè queste anime, siccome che sulla terra Satana gli mette il prosciutto negli occhi, il sesso, il divertimento, i piaceri del mondo, la Ferrari, i viaggi, no? La giovinezza, tutte quelle storie lì. Allora loro non pensano a Dio. Poi, quando muoiono magari anche all'improvviso, capito, muoiono in peccato mortale magari all'improvviso e si perdono, ma lì capiscono che non hanno più nulla di ciò che era terreno, no? E hanno perso anche Dio. Questo è l'affare più importante, figlioli cari. La Chiesa non esiste per risolvere le povertà materiali, anche se si impegna a farlo. Naturalmente. Naturalmente si impegna a farlo la Chiesa. Ma la Chiesa esiste perché accanto al riscatto sociale, che in effetti ha sempre garantito la Chiesa, il cristianesimo è di per sé stesso. Ci sono studiosi anche atei che lo confermano, no? Che cioè il cristianesimo è intrinsecamente riscatto sociale, ma proprio perché c'è un principio escatologico, cioè costruiamo già oggi la città celeste. Non so se riesco, perché se non c'è un'attesa escatologica e tutto si riduce a qualcosa di inframondano, capito? Prima o poi tutto crolla, come vediamo con le ideologie. Vabbè, io avevo detto che non devo commentare, perché se no facciamo la veglia pasquale qui. La prima pena, sono sette, è la perdita di Dio. La seconda, attenti qui, i continui rimorsi di coscienza. Ho perso Dio per sempre, ho perso Dio perché potevo guardare, perché poi l'inferno noi, noi c'è, chi va in inferno si ricorderà, si ricorderà tutte le occasioni che Dio gli ha offerto per salvarsi, è come le ha respinte, è come le ha disprezzate. La terza, è sempre Santa Faustina, la consapevolezza che quella sorte non cambierà mai. La quarta pena è il fuoco che penetra l'anima ma non la niente. Ora se noi qui dovessimo parlare, ma cosa volete? Io non so veramente del fuoco. Esiste veramente il fuoco in inferno? Sì. Santo Tommaso d'Aguino dice che esiste, solo che è un fuoco che castiga i dannati in eterno per le loro colpe. La quinta pena è l'oscurità continua, c'è buio in inferno e non arriva l'Enel, un orribile soffocante fetore e benché sia buio i demoni e le anime dannate si vedono fra di loro e vedono tutto il male degli altri e il proprio. La sesta pena è la penultima e la compagnia continua di Satana. Capito? Questi come compagno hanno Satana in inferno. Che brutto, vi assicuro è che è brutto Satana. Settima pena è, secondo me, quella che a me è quella che ha copito di più. Mi sembra la prima. La tremenda disperazione, l'odio di Dio, le imprecazioni, le maledizioni, le bestemme. Insomma è veramente un luogo orrendo l'inferno, creato dall'esercizio errato della libertà umana. A partire da Lucifero, perché Lucifero è il primo che è cascato in inferno, perché si è ribellato a Dio. Santa Fostina aggiunge, ci sono tormenti particolari per le varie anime che sono i tormenti dei sensi. Ogni anima, con quello che ha peccato, viene tormentata in maniera tremenda e indescrivibile. Posso dire qui una cosa? Questa idea, mi ricordo quando si è dato dell'ogia alla Gregoriana, ci veniva detto che l'idea del contrappaso, cioè dell'essere puniti nello stesso modo con cui ci si è dannati, era un'idea medievale. Però purtroppo per loro, Santa Faustina, che è vissuta negli anni trenta del novecento, dice che invece è proprio così. Cioè i dannati soffrono particolarmente per ciò per cui hanno perduto Dio. Capito? Ci sono orribili caverne, voraggini di tormenti, dove ogni supplizio si differenzia dall'altro. Ricordo sempre che questo programma è vietato ai minori cattoprogressisti, ai neomodernisti, ai vescovi in bici. Sarei morta alla vista di quelle orribili torture se non mi avesse sostenuta l'onnipotenza di Dio. E qui c'è il messaggio. Il peccatore sappia che col senso col quale pecca verrà torturato per tutta l'eternità. Guardate che solennità qui, che Santa Faustina assume. Chi la conosce sa che in genere non scrive così. Scrivo questo per ordine di Dio, affinché nessun'anima si giustifichi dicendo che l'inferno non c'è oppure che sia vuoto. Io, suor Faustina, per ordine di Dio, sono stata negli abissi dell'inferno allo scopo di raccontarlo alle anime e testimoniare che l'inferno c'è. Ora non posso parlare di questo. I demoni hanno dimostrato un grande odio con me, ma per ordine di Dio, eccetera, eccetera. Questo che mi colpisce molto del racconto di Santa Faustina è anzitutto affermare che l'inferno esiste, che non è roba medievale e che parlarne, diceva Santa Alfonso Maria degli Guori, che si è convertito, sapete come, che lui voleva darsi alle cose del mondo. Insomma, era un ottimo avvocato. Un giorno partecipa agli esercizi spirituali e si presenta un sacerdote con una piccola stoffa dove c'era una mano annerita che scivolava giù, l'impronta di una mano annerita. Il predicatore racconta l'esistenza dell'inferno e poi ci ha portato una testimonianza visiva. Racconta la storia di due tipi che si innamoravano, ma non erano secondo Dio, quindi erano concubini, adulteri, no? Adulteri. Vabbè, non è che è per carità. Adulteri. Lei muore improvvisamente e va in inferno e Dio permette che si manifesti a lui. La va a trovare e gli dice, ti prego e ti scongiuro, io sono per sempre un'anima dannata. Non venire anche tu in questo posto. Poi lui si è convertito, si è pentito, si è fatto monaco, insomma, non so bene, ma lei prima di andare via ha lasciato un'impronta della mano annerita perché in inferno c'è il fuoco che brucia e questi argomenti, lo dico agli amici preti che mi ascoltano e so che ce ne sono, non sono affatto argomenti medievali o anacronistici. Fanno parte pienamente del bagaglio della fede, della sana dottrina cattolica. Perché diceva Sant'Alfonso Maria degli Uori, ha salvato più anime la predicazione dell'inferno che non quella del paradiso, perché hai capito? Siamo fetenti, amici cari, e che almeno evitiamolo per paura di andarci, insomma, perché Santa Teresa Davila diceva che ha paura dell'inferno, non ci va. Ecco, bene, però io mi sono accorto che sono già le dieci e non so perché quando parlo io mi sembra che il tempo, a me, a voi vi pesa, ma a me mi sembra che non sia mai sufficiente. Avevo detto Santa Teresa Davila e la devo saltare, tanto lei è in paradiso, adesso Fatima, voglio parlare di Fatima. Il 13 luglio del 1917, quindi in pieno periodo post-medievale, giusto per precisarlo, no? La Madonna mostra l'inferno a tre bambini, Giacinta, Francesco e Lucia. Fa vedere l'inferno, il primo segreto. Poi Sor Lucia racconterà che cosa ha visto. Notate l'affinità di linguaggio, di contenuti e di metafore, chiamiamole così, simboliche, tra Santa Faustina negli anni 30, esattamente nel 1936, e Santa, come si chiama lei? Sor Lucia, Sor Lucia di Fatima nel 1917, anche se poi questa narrazione lei la fa piuttosto avanti negli anni. Dice così Sor Lucia, la Madonna aprì le braccia, spalancò le braccia la Madonna Fatima e ci mostrò un grande mare di fuoco. Qual è anzitutto la prima metafora che torna? Quella del fuoco, che addirittura qui viene presentato come un mare, che pareva che si trovasse sottoterra. Immersi in questo fuoco i demoni e le anime come se fossero braci trasparenti e negre o color bronzo, dalla forma umana che fluttuavano nell'incendio. Mi pare che ci sia una perfetta affinità con Santa Faustina, trasportati dalle fiamme che uscivano da loro stessi insieme a nugoli di fumo e cadevano da tutte le parti simili alle faville che cadono nei grandi incendi, senza peso né equilibrio, tra gridi e gemiti di dolore, di disperazione, torna il tema della disperazione, come vedete, che facevano raccapricciare e tremare di spavento. E poi Sor Lucia, insieme a Giacinta e Francesco, vede anche i demoni. Dice Sor Lucia, si distinguevano per le forme orribili e schifose di animali spaventosi e sconosciuti, ma trasparenti e negri. Ancora, questa visione durò in istante e siano rese grazie alla nostra buona Madre Celeste che in antecedenza ci aveva rassicurati con la promessa di portarci in cielo durante la prima apparizione. Se non fosse stato così saremmo morti di paura e di terrore. Poco dopo alziamo gli occhi verso la Madonna che ci disse con bontà e tristezza, avete visto l'inferno. Ma qui ribadisco, la Madonna non aveva studiato, cioè aveva studiato teologia ma non quella contemporanea. Infatti so che la Madonna adesso si sta attrezzando, presto apparirà proclamando le tesi della Chiesa Bergogliana e allora diranno che è vero che appare. Perché purtroppo per loro la Madonna appare, ma fino a prova contraria nelle apparizioni ufficiali è una smentita clamorosa di queste tesi errone fatte circolare per buone che però sono eretiche. Avete visto l'inferno e sempre dico che infatti è con lei che fanno i conti. C'è chi da quest'altra parte in testate giornalistiche molto apprezzate nella vera Chiesa. Da due anni parlo e mi ignora clamorosamente un prete che Dio lo benedica, che è uscito fuori, una sola volta gli hanno dedicato la prima pagina, a me mi ignorano completamente. Non mi importa perché io so che i conti non sono con me, mi considerano da quella parte eretico, scomunicato, sospeso a divini, si è rimosso a barocchio. Ho capito che però da quest'altra parte non mi va neanche tanto bene. Sono fuori di testa, sono un prete popolano, tutte quelle storie lì, ma non hanno fatto i conti con la Madonna, che la Madonna sceglie i piccoli, gli ultimi, i poveri. Sono qui a dirvi che sono uno di quelli lì, però chiamato a testimoniare la lottrina cattolica fino alla fine. Avete visto l'inferno dove vanno le anime dei poveri peccatori? Per salvarle Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Bene, adesso io dovevo parlare anche degli altri. Invece, per concludere, vi rimando subito alla sorpresa che vi avevo promessa. La sorpresa è questa. Prometto che parlerò nella prossima catechesi, così tanto chissà quante catechesi dovremo fare, vi parlerò anche delle altre visioni dell'inferno Sor Josefa Menendez e poi chi era l'altra, non mi ricordo più, Santa Teresa Davila, il catechismo è anche la cattolica. Però questa sera devo parlare di una cosa poco conosciuta che vi farà molto riflettere. A me è valso quanto un corso di esercizi spirituali. Una donna negli anni 70 in Francia è posseduta dal diavolo. A me, a questa storia qui, ne ho parlato anche con padre Amort quando era il mio padre spirituale e mi ha detto che questa storia è vera, è una storia vera. Siamo nel 1975 e c'è una donna in Francia, non so esattamente che zona della Francia, posseduta dal diavolo. Dopo la prima constatazione della possessione nell'ossezza, che però era posseduta perché doveva espiare. Ci sono stati santi, Marco Tosatti, ne ha parlato abbondantemente in un libro, santi posseduti dal diavolo, per permissione divina. Penso in particolare a Santa Maria di Gesù Crocifisso, mi pare che siamo in la piccola araba, Miriam di Gesù Crocifisso, per qualche tempo fu posseduta da Santa Maria Maddalena dei Pazzi, altri santi, anche uomini, insomma che hanno conosciuto l'esperienza della possessione ma in forma espiativa, per sé e per i peccatori. Ecco, questa donna era posseduta dal diavolo per espiare i peccati della società senza Dio. E ad un certo momento degli esorcismi si presenta, attraverso questa posseduta, l'anima dannata di un sacerdote. Questo sacerdote dà il suo nome, Verdi Grandieu, e dice di essere vissuto, di essere un prete dannato in inferno dei Pirenei, quindi tra Francia e Spagna, vissuto nel XVII secolo. Nel testo dell'esorcismo vengono registrati i dialoghi tra questo sacerdote dannato, Verdi Grandieu, e il prete esorcista. Io passo adesso a leggervi l'impressionante, era questo il regalo che volevo farvi, così andate a letto a dormire tutti molto serenamente. Al limite, se proprio vi sconvolgete, fate come Don Dolindo Ruotolo. Allora lui siccome voleva andare in paradiso, aveva sempre paura di peccare, quando andò a farsi l'elentroencefalogramma, gli fecero le radiografie, gli presentarono il teschio suo, e lui ha detto, ah, e io sono questo? Cioè sì sì, questo è il suo teschio, scusi ma lei che deve fare? No, è sua questa radiografia. Ah bene, andò a casa e ha avvolto la bajur, così lui, capito, la notte quando si svegliava, scendeva la bajur e vedeva il teschio, ricordati che devi morire. Però adesso vorrei leggervi questo dialogo impressionante, vediamo quanto tempo c'è per leggerlo. Sono uno tra molti, risata, sono un disgraziato tra molti, prepariamoci per i cattoprogressisti non accompagnati che hanno seguito questo programma e perciò adesso siccome era vietato, adesso rimangono, come si dice, scioccati e quindi vedrete come reagiranno, vedrete, se non proprio stasera se la preparano le cartucce, ma è solo perché non erano accompagnati, vietato i minori non accompagnati. Sono solo uno tra molti, sono un disgraziato tra molti, che sciocchezza, che sciocchezza ho fatto, ho condotto una vita veloce come il lampo. Questo lo dicono tutti i dannati, che poi per essersi goduto un tempo sulla terra, poi dopo, capito, un'eternità di dannazione. Per questo al tema dell'inferno è correlato quello della penitenza, via, accettiamo con pazienza le prove della vita, che questo più nessun prete ne parla, si parla dell'uomo che soffre, ma parliamo di Gesù che ha sofferto. Guardiamo Gesù in croce e accettiamo le prove della vita. Come ha detto la Madonna, di tutto ciò che soffrite dite Gesù è per amor tuo e per salvare i peccatori. Ecco, non venitemelo a dirmelo a me, quando l'altra notte per l'ennesima volta ho sbattuto il piede, mentre mi sono svegliato, il mignolino, e soltanto dopo circa un quarto d'ora ho detto Gesù è per amor tuo e in odio a me stesso che lo dico. Ecco, perché non sono vissuto meglio? Perché non sono stato prete secondo la volontà di Dio, di Lui lassù? Vedete come inizia forte, eh? Naturalmente è Dio che permette che i dannati possano rendere questa decisione, ma io la trovo molto forte. Perché non ho corrisposto alla grazia di Dio? Perché, con voce forte e piangendo, ho abbracciato il sacerdozio se non ero capace, o se non mi sono mostrato pienamente capace di esercitare una funzione pesante, piena di responsabilità di esercitarla come avrei dovuto esercitarla, e qui il dannato piange addirotto. Allora l'esorcista gli dice, di la verità, verdiga grandier, in nome di Gesù Cristo, è lui, ho peccato dando il cattivo esempio, ho dato il cattivo esempio come anche oggi, 1975, migliaia, decine di migliaia di preti danno il cattivo esempio, non ho impartito un buon insegnamento religioso, ho osservato più le gonnelle che i comandamenti di Dio, sono stato condannato perché ero troppo tiepido. Quello di lassù, parla di Dio, mi ha letteralmente detto, io ti vomito dalla mia bocca perché non sei né freddo né caldo, l'esorcista, parla, verdiga grandier, per la gloria di Dio, di quanto devi dire sulla tua vita, perché questi interventi di esorcista? Perché spesso nei esorcismi, ho partecipato più volte agli esorcismi, a proposito di quelli che non ci credono, padre Amort mi ha raccontato un episodio esilarante che ho avuto modo di raccontarvi, c'era un giovane prete che era appena uscito dalla facoltà teologica, da un'accademia di Roma, dove circolano le tesi di Ravasi e compagni martiri che sostengono che sono racconti presi in prestito dalle culture di vitrofe, quindi questo è uscito pensando che il devono non esistesse, quindi è andato proprio da padre Amort per andare a dimostrare che stava perdendo tempo. Allora padre Amort ha detto, senti, va bene, non è che ti va di rimanere un po' visto che sei fatto? Sì, resto perché devo fare un'indagine scientifica raccontata a me da padre Amort, guardate che era esilarante padre Amort, gli amici di Dio sono sempre abbastanza poco pallosi, quindi diffidate di quelli un po' troppo... Allora, lui raccontava che ha insistito, ma lui non ha avuto bisogno, ha detto subito sì, resto, è rimasto, mentre padre Amort faceva l'esorcismo, il diavolo si è rivolto al giovane prete e dice, tu signorina che ci fai qui, tu che la notte verso le due accendi il computer e ti guardi i film a luci rosse e poi raggiungi il piacere da solo e come se non ti bastasse poi lo raggiungi anche contro natura. Padre Amort mi ha detto, credo donne, perché lui parlava così, che quella dichiarazione del diavolo sia valsa otto anni di teologia, otto anni di teologia, perché quello lì si è visto smascherato, se ne è proprio scappato via, non sappiamo che fine abbia fatto. Però tante volte quando poi c'è l'esorcismo bisogna insistere perché parli, non capite? Per questo ogni tanto il sacerdote come sentiamo l'esorcista interviene parla per la gloria di Dio e lui nella mia gioventù era ancora buono e qui piange, poi gridando amaramente dice, corrispondevo ancora alla grazia in quel momento, piange di disperazione. Nella mia gioventù ho ancora corrisposto alla grazia, ma poi sono diventato tiepido. Attenzione alla tiepidezza, figlioli cari, quella che circola nelle parrocchie dove tolgono gli inginocchiatoi e se i preti ti vedono a dire la Divina Misericordia o a fare i primi nove vendi di mese, ti spediscono a Erfurt per convertirti. Non dico cos'è a Erfurt. Mi sono inoltrato sempre più nella via larga, ho abbandonato la via della virtù e non ho più corrisposto alla grazia, allora sono caduto sempre più in basso. Forse all'inizio mi confessavo, volevo convertirmi, più di una volta peccavo e poi ritornavo in me stesso, ma non ci riuscivo più perché pregavo troppo poco. Quando la Madonna a Meggiugorie dice ci parte sempre molto da lontano e poi sempre come conclude o come inizia o come dice a metà ci mette sempre quello che a lei importa di più, perciò cari figli pregate, pregate, pregate. Io dico che se uno non prega almeno un'ora al giorno, oh vale anche per gli uomini, mica il Signore fa differenza di uomini e donne, se non pregate un'ora al giorno siete fritti, capito? Perché il diavolo getta giù l'amo e c'è l'esca e il diavolo ti conquista con l'esca e poi tu abbocchi e sei finito, vai in padella a friggere. Ho abbandonato la via della virtù, non ho più pregato, non pregavo più, ho pregato poco, ero come si dice tiepido, tiepido è già essere freddo, si dovrebbe essere caldi, caldi, ardenti di fede, allora non accadrebbe ai preti ciò che è avvenuto di me, ma voi avete adesso migliaia, attenti qui, decine di migliaia, più di un milione di preti come me, tiepidi e pronti ad andare in inferno. Di la verità, insiste l'esorcista, e lui, è che i preti non corrispondono più alla grazia e quanto loro accadrà se non si convertono, non accolgono totalmente in loro il fuoco dello Spirito Santo e non lo lasciano agire, non sarà meglio di quanto è accaduto a me, sono molto infelice nell'inferno, vorrei non essere mai vissuto, questi dannati spererebbero, no? Di annientarsi, ma ci dispiace per vergoglio, ammesso che sia vero che l'abbia detto, però non l'ha smentito, riportato, dicevo ieri sera, da, come si chiama, Babbo Natale, da Scalfari, che le danime si autoannientano, niente affatto, niente affatto, vorrebbero, ma non possono, perché l'anima, dal momento in cui veniamo concepiti, è immortale, vorrei non essere mai esistito, soprattutto vorrei se dovessi vivere e poter ritornare indietro e poter far meglio, come vorrei far meglio, vivono di rimpianti, rimorsi da coscienza, diceva Santa Faustina, come vorrei restare in ginocchio giorno e notte, pregando lui lassù, ormai non si inginocchia più nessuno, io peso molto più di 100 kg, però sto in ginocchio, che mi importa se poi ho i crampi alle ginocchia, non si inginocchia più nessuno, voglio offrire penitenza, perché vedo che nelle chiese non si inginocchia più nessuno, anzi, ormai ci si siede a mangiare in chiesa, col tabernacolo, che poi dicono non l'abbiamo tolto il Signore, ancora peggio, tu spodesti il padrone di casa per dare da mangiare a chi? Non so io, veramente, stiano attenti, col Padre Eterno non si scherza, i martiri ci sono, i profeti ci sono e poi li eliminano, e Dio ne fa sorgere sempre di nuovi, stiano attenti però, tutti stiano attenti, perché c'è uno che è il Padre Eterno, e lo dico così, sono sereno. Come vorrei restare in ginocchio giorno e notte pregando lui lassù, e indica proprio col dito, chiedendo perdono, chiamerei mi aiuto tutti gli angeli e tutti i santi per non seguire di nuovo la via della perdizione, ma io, io, lamenti con voce forte, non posso più tornare indietro, e anche questa è una caratteristica, cioè chi va in inferno, lasciate ogni speranza, o voi che rientrate, non posso più ritornare indietro, sono dannato, voi ci sono cose molto belle, ma il tempo è tiranno, egli l'ha fatto per così dire, parla di Gesù Cristo, per carità verso il prossimo, ma non ha mai mangiato molto, ha sempre mangiato piuttosto frugalmente, e non parleremo dei momenti in cui non assisteva alle feste, a proposito di un Cristo che oggi presentano anche in questo modo gaudente, che si sedeva a tavola, certo è vero, ma perché lo faceva? Ora io vorrei dire a questa chiesa schizofrenica, a questa falsa chiesa io vorrei dire, ma pazienza, chiamate pure se volete in cattedrale i poveri a mangiare, però voi lo fate perché Gesù Cristo faceva così, va bene, ma poi dopo la parabola del figlio prodigo gliela raccontate, glielo dite di convertirsi, fate come Gesù che invita al regno dei cieli, perché se non lo fate siete mangioni e beoni, e dissacratori, allora se poi io penso che lo fate apposta non sono così tanto lontano dalla verità, perché Gesù si sedeva a mangiare con i pubblicani e le prostitute, ma mica perché gustava l'insalata russa o il pesce di San Pietro, forse si scordava pure di mangiare, però si sedeva, ma invitava alla conversione, gli interessavano le anime, non il menu, Dio mio, ma che razza di situazione stiamo vedendo, ma cosa ci tocca vedere, e mi dicono di star zitto, cattolici battezzati hanno il coraggio di dirmi stai zitto, ah guardate io potrò decidere di star zitto, e poi si arrangiano, Cristo ha sofferto molto la fame, è sempre l'indemoniato che parla, più di quanto si pensa, la sacra famiglia, gli apostoli hanno sofferto molto la fame, digiunavano, altrimenti non avrebbero ricevuto le grazie che sono state loro concesse, ora i preti mangiano più riccamente, a volte fanno bisboccia, sarebbe, lasciamo perdere, meglio saltare, se no qui stasera non so che fine faccio io, allora la via che conduce al primo peccato non è più molto lunga, perché noi abbiamo un immenso potere noi dall'inferno, di tentare nel male, facciamo sempre quanto possiamo, ci si istruisce così bene, e anche noi demoni umani, interessante questa affermazione, cioè le anime dannate si definiscono in inferno demoni umani, veniamo istruiti e guidati così bene che prendiamo sempre l'uomo in tal modo o lo si può prendere meglio. Amici cari, qui c'è una roba meravigliosa, però guardate quante pagine ancora, e tutto l'esorcismo è veramente una catechesi formidabile, però io adesso devo chiudere perché sta passando quasi un'ora, prometto che sabato, da dove mi trovo e se resisto, prometto che finisco di leggere anche, comincio col finire di leggere sabato, l'intervista a Verdi Garadier, che è appunto dannato in inferno. E mentre concludo vi ricordo amici cari che io sto per iniziare questo tour mariano in giro per tutta l'Italia, dalla Calabria, Frulli, Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Lazio, Campania, ce n'è per tutti, vi invito a fare presto e iscrivervi al pellegrinaggio che guiderò io a luglio, a Dio piacendo, e su tutti voi invoco la benedizione del Signore della Santa Vergine, che la Madonna ci aiuti in tutti i modi a custodire la nostra anima in grazia di Dio, a evitare il peccato mortale, a evitare così il peggiore dei rischi, il peggiore dei rischi non è il tumore, non è il cancro, non è la morte improvvisa, il peggiore dei rischi è la dannazione eterna di cui purtroppo colpevolmente non si parla più a danno delle anime. Mi benedica Dio Onipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, ame. Sia lodato Gesù Cristo! Sia lodato!